Oggi qui alla Chiesa di San Giuseppe, la parrocchia Maria Santissima della Grazia, si festeggia San Giuseppe anche se è il 20. Sì, perché essendoci stata la coincidenza con la quarta domenica di Quaresima, tutte le solennità anche dei Santi o della Madonna che dovessero coincidere rispetto ai tempi forti, le domeniche dei tempi forti vengono posticipate di un giorno. Oggi liturgicamente è la solennità di San Giuseppe, ieri è stata la quarta domenica del tempo della Quaresima. C'è in programma la processione di San Giuseppe? Sì, oggi ci sarà una messa alle 11, poi più tardi in Chiesa Madre alle ore 18 perché il simulacro, il venerdì precedente, è stato portato il simulacro di San Giuseppe in Chiesa Madre e poi dalla Chiesa Madre far ritorno processionalmente qui nella Chiesa Rettoria di San Giuseppe. Quindi si aspetta una grande partecipazione di fedeli? Sì, siamo anche nel giorno lavorativo, per cui credo, ma di solito ha una discreta partecipazione. È una solennità, è una devozione quella a San Giuseppe molto sentita dalle nostre parti. Oggi per fare un esempio ho mandato gli auguri nel gruppo che coordinano i sacerdoti della Diocese e ho mandato personalmente, ecco, nel gruppo ho fatto gli auguri a tutti i Giuseppe. C'erano un sacco di Giuseppe, infatti ho detto ma guarda un po' com'è radicata questa devozione a questo santo anche in coloro che portano il nome. Infatti stamattina ora farò un post per esempio su Facebook, mando gli auguri a tutti, perché avrò almeno un 300 Giuseppe se dovesse mandare un messaggio a ciascuno, anzi approfitto anche di questo canale, ecco, per tutti Giuseppe che conosco per fare gli auguri e a tutti i papà in modo particolare. Anche se papà proprio ieri l'abbiamo festeggiati, ma lo festeggeremo anche oggi perché la figura del padre è importante, fondamentale. Giuseppe incarna molto bene questa realtà di cui il nostro tempo e i ragazzi per la loro crescita hanno bisogno. Il papà non è solo il sostentamento, quello che provvede il cibo, ma è anche quella stabilità padre-madre, ecco, sono quelle due figure essenziali a cui ogni realtà umana fa riferimento.